La Casa delle Culture di Arezzo, che tanto fece discutere per la sua chiusura da parte dell'assessore Lucia Tanti, diventa sede di un corso universitario, una laurea triennale in sicurezza, amministrazione e servizi del territorio grazie ad una convenzione tra Comune di Arezzo, Anci Toscana e Università di Siena. Devo dire che questo è un grande ritorno, dopo lo studio maretino del 1200, ritorna ad Arezzo un insegnamento nell'ambito della giurisprudenza. Questo è un grande risultato che dobbiamo al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, che ha deciso di scommettere sulla nostra città. Anche questo è un messaggio positivo, cioè Arezzo è tornata ad essere attrattiva rispetto a eventi culturali, a eventi di formazione come quello di cui stiamo parlando. Voglio sottolineare anche che il protocollo d'intesa che lega Comune e Università di Siena vede anche un terzo partner che è Anci Toscana, che vede in questo percorso la possibilità di aggiornamento, di crescita culturale di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in particolare delle amministrazioni comunali. E quindi secondo me questo è veramente un grande risultato per la città. È un corso che viene impartito ad Arezzo anche per lo studente senese, in modo da portare gli studi giuridici ad Arezzo e a fare di questo triennio anche il presupposto per tutta un'attività di post laurea e di quant'altro, con gli ordini e con le istituzioni locali, il Dipartimento di Giurisprudenza possa fare. L'Università di Siena ha dimostrato di uscire un po' dalla situazione in cui si era arroccata, prediligendo le scienze linguistiche e pedagogiche, aprendo un nuovo fronte su altre attività educative, soprattutto che hanno molti sbocchi lavorativi, e il Comune ha fatto dando in comodato gratuito questi spazi. Quindi anche per il Comune è un piccolo investimento da questo punto di vista.